Allora, rieccoci insieme, volevo che anche lei raccontasse la sua storia di imprenditore, perché dopo parleremo anche di innovazione e poi lo farà anche Burlini. La mia storia è abbastanza semplice, siamo partiti in due soci, due amici nel 1981, completamente da zero. Ah, da zero? Da zero, da zero, infatti sono un imprenditore di prima generazione, ci tengo molto a questo, perché così, dico, quello che c'è non l'ho ereditato, insomma, ecco. E siamo partiti proprio così, con l'idea però, con il sogno di conquistare il mondo. E direi che ci siamo veramente… In che ambito? Nel materiale da impronta, soprattutto per dentisti, è sicuramente un mercato di nicchia, ma poi i prodotti sono stati ampliati, sono stati ampliati le gamme, e poi anche abbiamo creato una divisione di high tech, cioè l'utilizzo di prodotti siliconici per molti settori. Quello che trovo interessante anche per la serata, diciamo, su innovazione, è che dall'inizio io ho creduto veramente alla ricerca, alla competizione, perché alla fine innovare vuol dire competere, cioè cercare… L'imprenditore, secondo me, deve cercare sempre dei piccoli vantaggi nel mercato, perché se si lascia andare, diventa puramente solo una battaglia di prezzo, e invece deve essere una battaglia sull'originalità, una battaglia sulla… No, quello che interrompo solo un attimo, lei ha detto una cosa importantissima, quando io pongo quest'obiezione dell'innovazione a tanti imprenditori, molti obiettano, sì, però per innovare bisogna avere soldi, soldi non ci sono perché vengono, c'è problema delle tasse, eccetera. No, ma non è vero. Infatti voglio chiedere a lei, è possibile innovare senza avere questo capitale? Cioè, siamo partiti già subito con l'idea di dedicare il 10% alla ricerca, cioè noi veramente abbiamo 10% del personale alla ricerca, cioè ma perché questo? Non è che sia un costo, anzi, questa per me è una grande risorsa. Assolutamente sì. Perché mi dà competitività, perché mi consente di vendere il prodotto a un livello più alto, di posizionare il prodotto a un livello molto più alto. Diciamo che questo però, ecco, alle volte sono stato un po' costretto, perché in un settore, diciamo, medical device, questo magari si è un po' più, no, bisogna sicuramente, è un campo molto spinto, dove anche i competitor sono spesso delle multinazionali, infatti io ho un competitor a livello di 3M, di multinazionali, diciamo, sia americane, tedesche o giapponesi. Questo ovviamente, se volevo stare in quel mercato, bisognava assolutamente, diciamo… Però ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, perché, ma non solo, le dirò di più, sono diventati, cioè siamo diventati leader mondiali di un materiale di un prodotto, leader mondiale, vuol dire che decidiamo noi il prezzo di mercato. Qual è il segreto, cioè, Debra la vede anche la realtà, cose che altri magari non riescono ad essere nel loro campo, perché ognuno non è proprio, dico. Il suo segreto qual è? Il Presidente Loisone ci ha detto un po' il suo, che è al Stein. Io credo che un imprenditore debba assolutamente crederci, per primo. Cioè, credere debba rischiare, perché il più grande, diciamo, vantaggio competitivo, noi lo abbiamo avuto mettendoci in testa di fare un impianto chimico di sintesi del silicio. E siamo l'unica azienda al mondo nel dentale che ha un impianto di sintesi del silicio. Cioè, ci sono solo cinque aziende al mondo che hanno un impianto di sintesi sul silicio, no? E siamo partiti veramente con, qui serviva il suo coraggio, perché ho dovuto importare addirittura, diciamo, una parte, diciamo, di tecnologia e poi crederci talmente tanto da investire otto anni del nostro laboratorio di ricerca per sviluppare questo impianto. Aspetta. E non sapere fino a quando questo impianto avrebbe funzionato, se funzionava, oppure, cioè, pensando, o sono diventato molto più ricco, oppure mi sono veramente rovinato, insomma, se non funzionava. Ma l'altro canto, scusa. Questa, in estrema sintesi, questa è l'impresa, l'imprenditore per me deve rischiare, perché, cioè, non c'è, non si può fare un ragionamento logico nell'impresa. Cioè, le imprese nascono, perché sennò il nostro amico professore sarebbe il più grande imprenditore di questa terra, perché è bravissimo lui fare ragionamenti logici, è vero? È bravissimo lo so. Però rischiare è un altro discorso. Io prometto sempre agli studenti che se sapessi quello, veramente, fa la pratica, non insegnerei, stai inatterei per me a fare i soldi. Sì, ma non è neanche, non è che l'imprenditore sia una persona più intelligente di un'altra. Ecco, però no. È una persona che forse può avere più coraggio di un'altra, è una persona che può avere anche un'intuizione. Ecco, l'intuizione ci deve essere. È una persona che ama, magari, deve amare anche un po' il rischio. Cioè, il rischio diventa un'andrenalina, diventa un'andrenalina, insomma, per questa. Però, un momento, le imprese possono nascere e poi morire anche velocemente. A un certo punto bisogna anche consolidare. Allora, quello si fa con la testa, si fa con la logica, con il ragionamento. Ed ecco che bisogna fare il passaggio meneseriale. Ed ecco che, allora, le università possono aiutare moltissimo in questo, cioè, sicuramente. Io voglio solo precisare che impresa, sta dicendo delle cose talmente vere, ma che dovrebbero essere talmente, posso dire, chiare. Perché impresa significa organizzazione aziendale, ma significa anche missione impossibile. Cioè, il significato è quello. Quindi, quando uno fa l'impresa, San Giorgio ha fatto l'impresa di tagliare la testa al drago ed è diventato santo e gli hanno dato lo stemma nobiliare. Oggi, gli stemmi nobiliari non si danno più, si danno in qualche modo l'habitat, il fatturato, il rating, non so cosa si danno all'impresa, ma il concetto di impresa è di missione impossibile. Certo, no. E volevo chiedermi di passare la parola anche a Burlini, ricordando che poi lei è amministratore delegato di un network di aziende venete, che anche questo è importante. Su questo vorrei dire qualcosa, insomma, cioè, adesso, cioè, sto seguendo, come amministratore delegato, questo gruppo di imprenditori veneti che si chiama Venetwork, no? E che sono imprenditori, come me, insomma, che hanno, che loro hanno vissuto un sogno di impresa e che comunque che hanno questa, sono tutti, cioè, si riuniscono per il fatto proprio di poter trasmettere anche questo un po' di entusiasmo, un po' di passione, un po' di esperienza e anche della finanza per poter finanziare dei giovani che vogliono fare imprese, insomma, no? E trasmettere anche, diciamo, accompagnarli, accompagnarli perché magari tutti noi abbiamo capito che si possono fare tanti errori in una strada, cioè durante la costruzione dell'impresa. E fare sistema per evitare di cadere. E cercare di far fare agli altri meno errori possibili. Questa è un esperimento un po' anche perché mettere d'accordo 50 imprenditori, che notoriamente l'imprenditore, no, è un individualista spesso, no? Eh sì, infatti non è un centrale. Però, insomma, adesso credo, sto andando perché già questa esperienza ha tre anni e siamo già riusciti di far partire sei imprese, di cui alcune imprese innovative, prese addirittura proprio da incubatori come start-up. E sono andate, sono decollate. Esatto, farle partire, farle decollare ed altre che magari erano in dismissione rilanciarle iniettando un po' di finanza, un po' di entusiasmo, di passione e un po' di menagement, diciamo. Bravi. Ecco, lei ha detto due volte, già ripeto la parola management, qua passo al professore prima di passare di nuovo, non metto a un imprenditore. E chiedo anche, confermo appunto anche alla dottoressa, un problema riscontrato nel nostro nord-est di piccole imprese è stato proprio il management, ovvero l'imprenditore con la sua famiglia che fa nucleo vitale, che governa le redini dell'azienda con capacità di intrapresa, con senso del rischio, con coraggio, con intuizione, grandissima intuizione, ma con un, a parte questi casi presenti, un management assente, basso, scarso, non qualificato e via dicendo. E cosa succede? Quando la famiglia viene meno, i figli intraprendono altre strade, non hanno la capacità di reggere il timone perché non hanno l'intuizione del padre, il padre diventa, il padre diciamo il fondatore diventa un po' più anziano con l'età, quindi non riesce a tenere i ritmi che come si diceva sono velocissimi, le nostre imprese sono crollate purtroppo una dopo l'altra con disastri di cui si parlava ancora anni e dietro prima della crisi. Questo del management ha un, l'università ha un ruolo importantissimo in questo e anche l'intersezione tra impresa e chi prepara i manager del futuro. Come siamo messi? Perché ne hanno citato un po' di volte ma veramente sono strategici ma credo che per chiunque sia qui siano importanti. Allora qui il problema è molto complesso perché si ha a che fare con quello che è un driver di sviluppo dell'impresa che è la passione, quindi l'imprenditore è talmente appassionato dalla sua impresa che quasi in maniera masochistica vorrebbe vedere che quando lui non c'è più sostanzialmente l'impresa non va più bene per dimostrare che in realtà era lui l'impresa. Allora qui la soluzione è abbastanza semplice, l'imprenditore una volta che si arriva alla fase di consolidamento dovrebbe avere il coraggio, la saggezza di metterla in mano a un manager e attenzione più che andare ad assumere magari manager da Milano perché c'è stato un momento storico nella nostra regione che si assumevano, il manager da Milano era bravo per definizione. Poi salvo poi accorgersi che magari... Dopo che non, sapendo che è una storia diversa, dieci anni prima no? Magari dieci anni prima quando si pensa di poter consolidare l'impresa dovrebbero scegliersi degli studenti magari se hanno i figli bene, se no degli studenti ad alto potenziale da fargli crescere all'interno dell'impresa in maniera che ne gestiscono la routine e liberarsi del tempo per fare che cosa? un'altra impresa. Cioè l'imprenditore non è quello chiamato a governare ormai una realtà consolidata diciamo razionalizzando i processi, recuperando efficienza. Dovrebbe essere il management che governa la realtà una volta consolidata e l'imprenditore va a cercare un altro drago da tagliarli a testa perché questo deve essere lo spirito animale. Ma è facile trasmettere questo principio? No, è difficilissimo. Secondo lei nella pratica è facile dottoressa? No, per me, per quel che mi riguarda personalmente è facilissimo, l'importante è trovare chi sono le persone a chi dare questo famoso... Quindi avere un intuito nella scelta. Ma no, è trovare proprio i candidati perché forse nell'impresa normale, nell'ospitalità tutto questo è ancora più complicato, soprattutto da noi in Italia perché sicuramente nelle università non si parla di ospitalità. Quindi o si parla a livelli di dirigenziali tipo finance, tipo management, molto ad altro livello, ma di numeri, ma a livello più operativo non c'è nessuno che conosca la materia in questa maniera. E così puoi ascendere in tutti i vari dipartimenti. È veramente molto molto difficile trovare persone a cui... Però io sono perfettamente d'accordo con te perché alla fine la visione di un progetto arriva a un punto di plafond che poi deve essere mandato avanti nel miglior modo e la creatività deve essere, deve rientrare in alcuni momenti quando è necessario a fare quei famosi interventi di innovazione, ma poi deve essere applicata a qualcosa di cui uno è completamente libero, se no tende a soffocare se stesso e lui libero stesso. Potrei dire qualcosa in merito a questo, a questo tema che anche per me penso che sia un tema fondamentale soprattutto per cambiare passo all'impresa, cioè a farla aumentare di dimensione. Io ho vissuto tutti questi passaggi da zero fino ad arrivare a 400 persone come azienda e addirittura adesso siamo quotati al Nasdaq, cioè ho fatto veramente tutti i passaggi in questo periodo, compreso quello del passaggio menageriale dell'impresa. Questo ho notato che anche i miei colleghi imprenditori che me l'hanno anche confessato questo, per loro alcuni è un passaggio che non riescono proprio a fare, cioè non riescono a fare perché hanno paura di delegare delle funzioni, hanno paura addirittura di prendere delle persone che siano più brave di loro e che li rubino la scena, insomma non può. Cioè dobbiamo, questo è un'autocritica che devo fare come imprenditore, come classe imprenditoriale e questo diventa un problema poi per la dimensione perché è vero che uno fa per tre, ma non può fare per venti manageri, no? E per cambiare dimensione di impresa assolutamente bisogna fare questo passaggio, questo passaggio menageriale, cioè bisogna dare, cioè assegnare delle funzioni che fa l'imprenditore che le fa un po' così, no? Un po' abbastanza, non proprio precise, a delle persone specializzate. Certo, assolutamente no, questa è vitale strategica. Però ecco, una cosa che voglio aggiungere solo è che questo passaggio è un passaggio che dura dai 5 ai 10 anni. Non dobbiamo illuderci che sia un passaggio, non è un passaggio da qualche mese. Prima un passaggio di mentalità dell'imprenditore e poi c'è un passaggio vero e proprio di tempi tecnici. Burlini, la sua storia in breve e poi le sue conclusioni. La mia storia in breve, allora io mi daureo nel 1996 a Venezia in economia e commercio. All'Università Ca' Foscari, ancora con il vecchio ordinamento, non c'erano i corsi che ci sono adesso, che mi dicono che ci sono questi corsi. Dopo un anno e mezzo, stanco di stare in Italia, prendo e vado a Londra, avevo già degli amici che erano andati a Londra e sono vissuto per 13 anni lì, quindi ho vissuto la vera trasformazione della città perché Londra in quegli anni è assolutamente esplosa, hanno raso il suolo in intere zone, le hanno ricostruite, è stato probabilmente, è stato quello che io ho visto costruire quella che adesso è una città-stato, cioè Londra ormai è in Inghilterra ma si comporta in maniera completamente diversa, con parametri completamente diversi da tutto il resto del paese. Tant'è vero che durante la crisi è cresciuta ancora di più perché tutti andavano a comprare immobili a Londra, cioè fa storia a parte. All'inizio lavoravo per una società italiana che esportava in Inghilterra, ho aperto un po' la strada, però dopo mi sono scontato con il management italiano perché dicevo che guardate, quello che state facendo non va bene, avrà delle conseguenze, non mi hanno ascoltato, io ho lasciato la società, quando c'è stata la crisi hanno avuto dei problemi molto grossi, la società è in forte crisi in questo momento e secondo me c'erano degli errori insomma, degli errori di fondo, società Veneta tra l'altro, li parlo. Mi sono, ho cominciato a interessarmi di economia digitale sostanzialmente e lì ho cominciato a lavorare con delle persone e dopo qualche anno di esperienza ho aperto la mia realtà, sostanzialmente noi siamo nel mondo dell'e-learning, informazione, insegnamento a distanza, sviluppiamo corsi, li mettiamo sul mercato, non sul mercato italiano, è tutto fatto in inglese per il mercato anglosassone sostanzialmente mondiale. Ho imparato che... E funzionano. Sì, sì, ho imparato che... ho imparato, diciamo che l'esperienza che avevo avuto è stata molto importante perché ho detto ok, tutto quello che io non voglio fare nella vita è questo, cioè non voglio comportarmi come loro, non voglio fare quello che hanno fatto loro e soprattutto non voglio occuparmi di qualcosa di materiale, quindi ho scelto un ambiente completamente immateriale, digitale. L'azienda è sostanzialmente un'azienda che a parte i soci usa esperienze ed expertise in giro per il mondo a seconda di quello di cui ho bisogno, assolutamente super leggera e i miei parametri non sono sostanzialmente basati su quello che vendiamo, che comunque è più che sufficiente, ma c'è un progetto di conquistare un network di persone nel campo del business e del marketing. Quindi per me sono importanti, sono quante persone in questo momento stanno studiando quello che insegniamo noi, quello è il numero che vedo crescere e quello è quello che mi interessa. Lei è italiano, imprenditore, tutto il suo core business è estero, completamente estero. Sì, sì. E ci sta bene, non interiore. No, 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 io sono contento così, vivo in Italia adesso, quindi il mio ruolo di consulente perché i miei soci sono quelli che poi portano avanti, però io sono quello che ho la maggiore conoscenza del business da un punto di vista dell'esposizione del marketing e quello io seguo appunto tutto quello che succede nel mondo in questo settore che è assolutamente in esplosione, quelli che si chiamano Massive Open Online Corsi, cioè questi corsi dove migliaia di persone arrivano in un momento e lo fanno e questo è quello che è la strada che ho intrapreso. Quindi completamente diversa da quella che è un'impresa tradizionale. No, non c'è assolutamente... Solo una cosa, perché con me siamo in chiusura, quindi velocissima, secondo lei, vista quindi in parte dal di fuori, in parte da comunque da quest'altro nucleo particolarissimo, qual è il problema che lei riscontra nell'imprenditoria italiana, la difficoltà che fa sì che anche lei non pensi di poi fare la stessa cosa a un clone made in Italy? Abbiamo parlato anche di made in Italy. Ma è difficile da dire, io penso che è semplice, per me nel mio caso è molto semplice, se io volevo conquistare il mondo dovevo farla in inglese, non c'era altra scelta, non posso farla in italiano, cioè sembra una scelta, sembra una battuta, ma è così. E quindi è stata adesso un po' la semplice? Sì, cioè io avevo un riferimento a Glossassone perché quella era comunque la mia base. Avrei fatto qualcosa di diverso con l'Italia, ma non quella cosa specifica sicuramente. Per lei è la chiave del suo successo, anche futuro, in proiezione, cosa può intravedere? Sicuramente cercare di fare un lavoro con gusto in tutti i sensi, quindi quello che ti piace, che solo così si può esprimere al massimo, quindi anche le persone che lavorano insieme noi cerchiamo insomma di avere, e anche il nostro cliente stesso, quindi deve avere un minimo di piacere in quello che fa, non deve essere, è la chiave di lettura diversa del prodotto, della persona che sta dietro al prodotto e non è più significante il prezzo, ma che ha un suo valore, il bel disco strategico, il secondo valore in assoluto, ma che comunque tutto è, e quindi questo è, ascoltando il nostro cliente insomma noi riusciamo a proporre qualcosa di nuovo ed essere sempre propositivi a 360 gradi, quindi non vedo... Questo, no, no, è stato chiarissimo, anche la passione e il cuore. Poi con il cibo più italiani di così non c'è neanche molta alternativa. Infatti, dottoressa rapidissima, lei la chiave. Rapidissima per me, io ho un goal, per me è importante arricchire chi lavora per me e chi visita il Bauer, quindi arricchire attraverso la conoscenza di chi sono, io un po' una lampada da ladino, no? Ovunque vado porto un disegno completo di chi siamo, Venezia, la cultura, l'italiano. Un sogno insomma. Non un sogno, è qualcosa di tangibile che ti riempie l'animo, non tocchi, non ho una borsa, non ho un oggetto, non ho un atto, ma è qualcosa che ti porti via per tutta la vita. Perfetto. Professore, una chiusura, un auspicio velocissimo? Beh, l'auspicio è che la nostra classe imprenditoriale, oltre alla politica che abbiamo già detto, abbia la capacità di rischiare, come si diceva, di diventare imprese di proposta. Noi abbiamo questo... l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, quindi doveva farlo in inglese perché è la prima, ma anche lì possiamo giocarci una partita importante perché siamo apprezzati, abbiamo il gusto, abbiamo il colpo d'occhio. Sono qualità che abbiamo costruito in duemila anni, non possiamo perderle. E poi siccome sono tantissime, centinaia, le imprese che ce la fanno, tentano noce a questo punto, prospettive ci possono essere. Grazie di essere stati qui con noi, naturalmente grazie a voi di averci seguito. Speriamo di avervi trasmesso in modo costruttivo, propositivo, anche di dialogo, di dibattito naturalmente, degli aspetti che abbiate colto soprattutto di innovazione, di crescita e di positività soprattutto. Grazie, buonanotte, ci vediamo domani. Grazie a voi. Grazie a voi. Vi occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un clic. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere. www.bravoitalia.com Come creare la propria pagina? Quali consigli si possono dare? Intanto bisogna collegarsi sul sito, sull'home page. C'è la possibilità di potersi inserire. E verrà data subito l'opportunità di inserire in vetrina i prodotti. E noi faremo ovviamente un monitoraggio per vedere la qualità delle fotografie. Però diciamo che ormai l'utente che utilizza i e-commerce, che utilizza i siti o strumenti come il nostro, o simili al nostro, comunque ormai sono così evoluti che grandi difficoltà non ce ne sono. Comunque l'euro interno servizio e lo staff è in grado di dare anche un supporto per quanto riguarda per esempio il posizionamento in vetrina dei propri prodotti, ma anche sulle traduzioni. Per esempio se uno vuole esportare in Cina, noi possiamo, magari ha bisogno di una traduzione in cinese per spiegare il prodotto o l'azienda che produce e che vuol vendere, noi siamo in grado di fare delle traduzioni. Però sono tutte cose che diamo in più se il cliente non si attrezza. Peraltro abbiamo visto che tutti quanti sono capaci e sono in grado di potersi adoperare. Ma il costo è zero, nel senso che il cliente non ha nessun costo per posizionare in vetrina i propri prodotti. Il costo che probabilmente in termini di tempo dovrà avere qualcuno che si dedica a posizionare sul portale questi prodotti. Ovviamente qualcuno dirà, beh allora il vostro guadagno dov'è? Il nostro guadagno è, e sarà nel momento in cui il cliente vende, nel senso nel momento in cui l'azienda vende il proprio prodotto, una percentuale che si stabilisce all'inizio dell'attività da contratto verrà destinata all'euro interno. Il resto resta tutto in azienda. La spedizione è a carico delle imprese e per il pagamento l'acquirente acquista in un unico pagamento con Paypal. Una parte del guadagno va, la gran parte va all'azienda che espone i prodotti e una minima parte è la nostra provvigione, il nostro guadagno. Ecco, noi abbiamo tra virgolette anche la presunzione di dire, ok, noi siamo in grado non solo di trovarti personale anche all'estero, perché poi la nostra attività nell'agenzia per il lavoro è il lavoratore, l'incontro di una domanda e offerta di lavoro. Questo noi comunque lo garantiamo. Noi abbiamo imprese che delocalizzano o che vogliono vendere all'estero e cercano il personale, noi quello, diciamo, il nostro core business principale, a questo abbiamo agganciato tutta una serie di iniziative tendenti proprio a supportare l'impresa per l'internazionalizzazione. Riteniamo che sia ormai la strada che tutte le aziende, anche quelle piccole, debbano perseguire. Ma devono accedere o possono accedere le aziende che non sono già strutturate, ci sono aziende che non hanno bisogno di Bravo Italia per poter vendere all'estero, ma quelle aziende che non sono strutturate e che hanno però un prodottino, un prodotto di qualità, made in Italy, che sia di qualità in termini di design, in termini di... c'è quell'atmosfera che solo il made in Italy può dare a un prodotto, ecco, quel artigiano, quel piccolo imprenditore è quel target che dovrebbe essere più interessato a Bravo Italia. Grazie a tutti.